Centinaia i ragazzi provenienti da tutta Italia, Lanciano che ribadisce il suo stretto legame con la musica, soprattutto quella dei giovani, in una passione infinita che si comprime nell'Anxanum Music Awards, inserito nel mese della cultura. La quarta edizione ha confermato la bontà del progetto. Pensate, oltre 2.000 ragazzi dal 20 di maggio e fino a giovedì 23 si alterneranno sul palco del Teatro Fenaroli, concorso riservato alle scuole primarie e secondarie di primo grado ad indirizzo musicale, le secondarie, conservatori, scuole civiche, agli allievi privati di musica. L'associazione musicale Il Cenacolo Armonico sostiene l'Anxanum Music Awards con direzione artistica del pianista Marco Colacioppo. Le sezioni riguardano orchestra, solisti, formazione da camera. Gli strumenti sono una moltitudine, dall'arpa al violoncello, alla chitarra, alla batteria, percussioni, pianoforte e via dicendo. Premi speciali, borse di studio, concerti, premio rappresentano uno stimolo in più per alimentare tutto il bello di una gioventù che sente la musica dentro, nell'anima. Il maestro Simone Genuini è presidente di giuria. Una grande gioia, una grande soddisfazione per la riuscita di questo bellissimo concorso e poi una grande emozione vedere tanti giovani che provengono da tutte le parti d'Italia, affrontano viaggi lunghissimi, faticosissimi in alcuni casi o anche più brevi ma che comunque arrivano qua con un carico di energia musicale da voler trasmettere e da voler far ascoltare. Quindi è una gioia grande, è una gioia grande vedere tanti giovani che durante l'anno hanno destinato tante energie, risorse, tanto tempo alla preparazione di un momento musicale che in pochi minuti poi ha il suo compimento ma che è chiaramente il risultato di un anno intero di lavoro. È bello vedere i loro docenti che li motivano, che li seguono, li accolgono, li accompagnano in questo bellissimo percorso, quindi è il bello del percorso di apprendimento di didattica musicale, quindi una gioia grande.